Ingredienti Dosi per 4 persone 750 grammi di spinaci surgelati 200 grammi di ricotta 200 grammi di farina 3 uova 3 cucchiai di grana grattugiato Noce moscata Burro Sale e pepe Preparazione Lessare gli spinaci Tritarli e metterli in una terrina Unire ricotta Uova Grana Noce moscata Sale Pepe e mescolare bene Aggiungere la farina Amalgamare Formare degli gnocchetti e infarinarli leggermente Cuocerli per pochi minuti in acqua bullente salata Condirli con burro fuso e grana e servire Il piatto è pronto Buon appetito